Buongiorno, sono Arik. Dovevo volare da Biarrizza a Lisbona, ma quando sono arrivato in aeroporto mi hanno detto che il volo era stato cancellato a causa di un guasto tecnico. C'è una legislazione europea che tutela i miei diritti. La compagnia aerea è responsabile in caso di cancellazione? Effettivamente nel 2004 l'Unione Europea ha approvato una legislazione a tutela dei diritti dei passeggeri che volano nei cieli dei paesi membri o con compagnie registrate all'interno dei confini dell'Unione. I casi riguardano la cancellazione del volo, il ritardo e l'imbarco negato. Se il volo viene cancellato e si rimane bloccato in aeroporto ci sono due opzioni. Il rimborso del biglietto al 100% o il reindirizzamento su un volo alternativo il prima possibile. Se si richiede il rimborso si perde il diritto ad esigere il volo alternativo. Se invece si opta per un volo alternativo si ha comunque il diritto di ricevere assistenza nel periodo d'attesa. Un rinfresco, l'accesso alle comunicazioni, ad esempio la possibilità di fare una chiamata gratuita e una notte in hotel se necessario in attesa del proprio volo. Altrimenti si può anche avere diritto ad una compensazione economica che dipende dalla distanza del volo. La compensazione può essere ridotta del 50% se la compagnia offre un volo alternativo ad un orario simile a quello cancellato. Non si ha diritto a questa compensazione se la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie o se si è stati avvisati con due settimane di anticipo. Comunque in caso di cancellazione la prima cosa da fare è mettersi in contatto con la compagnia. Se questa non risponde ai reclami si può contattare l'autorità competente dello Stato membro dove si è verificato il problema. Se il volo aveva provenienza all'esterno dei confini dell'Unione bisognerà mettersi in contatto con il Paese europeo di destinazione. Se volete anche voi fare una domanda collegatevi al nostro sito web.